con Giacomo ne sono scappata ho dovuto farmi le valisce nascosto sempre pregando la madonna e tutto zitto zitto sono dovuta andare via se lascia tra noi lo posso raccontare minimamente però se lo devono sapere altre persone sì così me l'hanno parlato tante donne e nessuna voleva farsi conoscere ma per la parte in Germania bisogno di trovare una famiglia che rappresenta la sua storia è fantastico è bello è bello sarebbe bello se potessi trovare una casa starvene qui con i miei bambini mi viene il pensiero la vita quando uno lavora è sempre la stessa la mattina alle 5 e mezza però ce la facevo a fare il mio tempo è il problema della sera perché dobbiamo andare subito a casa e dobbiamo portare un po di gioia anche lì e quindi c'è sempre questa fretta ma è questa la vita ne vale la pena di vivere grazie a tutti grazie a tutti